Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto memoria flash Canon Legria HF. La videocamera digitale Canon Legria HF R506 è dotata di connessione Wi-Fi per condividere in diretta le riprese effettuate. Questa videocamera compatta e polivalente è dotata di un sensore CEMEOS da A3, 28 megapixel per registrare in formato Full HD 1080p su scheda di memoria SD. La HF R506 dispone di un potente zoom ottico 57X e di uno stabilizzatore ottico per correggere le immagini sfocate e migliorare la nitidezza dei contorni. Questo video partecipa al programma Affiliazione Amazon EU, dalla pubblicità e link alla Amazoniti. Per maggiori dettagli e ottenere un grande su Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.